Musica Buonasera, benvenuti, Prato diretta sera, speciale lezione, seconda puntata di questa carrellata che stiamo facendo, intervistando candidati sindaci che il prossimo 26 maggio sono in Lizza per essere eletti alla carica di sindaco di Prato. Stasera avremo tre candidati sindaci, iniziamo questa carrellata con Marilena Garnier, che è qui a fianco a me, buonasera, Marilena Garnier che corre per la carica di sindaco sostenuta da due liste civiche per Prato Garnier e Cittadini Pratesi. Innanzitutto lei cinque anni fa era candidata come consigliera all'epoca a sostegno del sindaco Biffoni, ecco, cos'è cambiato in questi cinque anni? Ma in questi cinque anni è cambiato tanto, intanto perché comunque in questi cinque anni Biffoni veramente ha fatto tantissime promesse fin dall'inizio ai cittadini pratesi, ha cominciato il suo programma, ma ci sono state poche cose realizzate, tanti rendering ma poca sostanza. Purtroppo la città in questo momento si trova in grandi difficoltà, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista della sicurezza, perché c'è un forte degrado, con la microcriminalità, con i cosiddetti reati predatori, ma anche con fatti più gravi. Non dimentichiamo che Prato è la città numero uno nella classifica per quanto riguarda il riciclaggio di denaro. Prato è una città che soffre molto, appunto come ho detto, la crisi del tessile, l'ha sofferta in questi anni perché pur essendo stata il primo distretto tessile insieme a Biella, nel corso di questi anni purtroppo non è riuscita a diversificare il mercato e infatti anche molte aziende purtroppo si sono spostate da Prato a Montemurlo creando comunque lì un'isola, diciamo, tra virgolette felice, cosa che il sindaco Biffoni però non è riuscito a fare, mentre il sindaco Lorenzini ha fatto. Noi ci troviamo quindi con un pronto moda, praticamente, perché tutte le confezioni che sono al macrolotto sono pronto moda. Ecco, questo va un po' innescarsi nel discorso che io vorrei portare in questa città. Cioè, intanto il tessile deve ritornare ad essere quello che era, lo so benissimo che non può tornare nella sua totalità, ma riprendere un attimino il discorso del riciclato, come è stato fatto con il recorecente, credo che possa dare una spinta a tutte quelle aziende che in questo momento hanno dei cosiddetti rifiuti speciali, che nella sostanza non sono rifiuti speciali, ma sono degli scarti tessili. Sono un problema, è diventato perché non riescano a gestirlo. Sì, esatto. Lei tra, sono otto candidati, lei è l'unica donna, insomma, è anche un po' di responsabilità in questo. Sì, sono contenta, insomma, di aver fatto questa scelta e ringrazio i cittadini che mi hanno sostenuto in questo percorso, nella presentazione anche delle liste. Ringrazio anche i consiglieri che sono 64 e comunque sono tutte persone che si sono avvicinate a me, che hanno chiesto loro di entrare in lista, non sono andata io a cercarli. Quindi questo è una cosa per me molto gratificante in questi cinque anni, comunque per me la partecipazione è stato un elemento fondamentale. Quindi sono sempre stata molto presente sul territorio, non solo in quest'ultimo periodo. ho ascoltato tutti, sia dalle persone che magari provenivano anche da un circolo arci, però avevano un problema e non ho avuto timore di presentare interrogazioni, emozioni o question time. Non ho mai guardato assolutamente il colore e ho sempre portato tutte le richieste in consiglio nel limite del possibile, naturalmente. Anche questo programma, che è per tutte e due le liste, è un programma che è stato redatto proprio con i cittadini. All'interno di questo programma, che si può leggere sul nostro sito www.marilena.it, c'è moltissime richieste dei cittadini che sono state fatte in questi anni. Lei è stata molto vicina ai comitati cittadini. Questo è un bene da un certo punto di vista, in caso però di elezioni poi sono quelli che vengono definite tanti cambiali da pagare, cioè mantenere quello che si è promesso. Allora, io ritengo che i comitati siano un elemento della mancanza della politica sul territorio. Cioè più comitati ci sono e più vuol dire che la politica ha ascoltato, ma in modo sordo. Quindi per quel che mi riguarda, io l'ho sempre detto ai comitati, io ho fatto parte del comitato No Aeroporto, ho firmato il ricorso, quindi per me la nuova pista di Peretola assolutamente non ha ragione d'essere, per me non si deve fare assolutamente. So benissimo che sono state poste le firme dal ministro Toninelli, dal Movimento 5 Stelle, ci sarà la sentenza che verrà resa pubblica adesso a giugno, però ci sono altri strumenti che comunque i cittadini possono avere in mano. C'è il comitato No Inerti di Casale, come il comitato di Baccia Cavallo, che ritengo che anche lì sia una struttura che non possa continuare ad essere come è stata strutturata, perché ci deve essere una divisione tra i fanghi industriali e i fanghi civili. Certo, potrebbe essere una cambiale il comitato, ma non lo è nella misura in cui io ho fatto una scelta specifica di inserirlo proprio nel mio programma e siccome sono anche una cittadina, prima di tutto più che una politica, ritengo che sia doveroso garantire quelle promesse che vanno a intaccare la salute dei cittadini. Per me sulla salute non si transige, cioè se c'è qualche cosa che può danneggiare il benessere dei cittadini pratesi, io farò di tutto per ostacolarlo. Ecco, in questo proprio questo, se lei fosse eletta sindaco, il primo provvedimento a cui lavorerebbe? Allora, il primo provvedimento è sicuramente quello di cominciare a battere i pugni davvero per quanto riguarda il nuovo ospedale, perché non è possibile che noi ci troviamo con un ospedale sottodimensionato che è stato studiato nel 2004 con un accesso di 180 posti al pronto soccorso, pazienti, cioè, e ad oggi ne abbiamo 330, dai 300 ai 330, e qua li vanno aggiunti naturalmente anche le persone che l'accompagnano, perché come minimo un paziente ha un accompagnatore, quindi sono 600 persone. Tanti mi dicono che è un problema della regione toscana, è vero, è un problema della regione toscana, ma è proprio dall'altro giorno che il ministro Conte ha detto al nostro presidente della regione Rossi che c'è un bel buco, quindi voglio dire, nonostante tutto, nonostante si dica che è il fiore all'occhiello, noi ci troveremo con una bella spada di damo che è con un grande buco, quindi assolutamente va potenziato, va fatta questa palazzina che prima doveva essere fatta, poi non è stata fatta, poi è stata bloccata. Bisogna rivedere il discorso dell'anatomia patologica, perché non ha senso che tutte le biopsie debbano essere fatte ad empoli piuttosto che a prato, questa è una cosa di cui nessuno parla, però purtroppo quando uno si trova dove combatte determinate malattie, purtroppo si trova a combattere anche contro questo, perché magari gli esiti arrivano dopo 40 giorni, talvolta vengono anche smarriti, non per incompetenza, essendo lontano, macchinosa, perché poi il personale fa i salti mortali, perché comunque non è soltanto sottodimensionato per quanto riguarda le utenze, ma è sottodimensionato anche per il personale, perché è un ospedale dove purtroppo c'è moltissima affluenza. E una delle cose collegate con l'ospedale è sicuramente il discorso del parcheggio, perché lei sa benissimo che il sindaco Bifoni ha sottoscritto con GESAT un contratto che prevedeva il pagamento del parcheggio. Ritengo che visto che non c'è un parcheggio gratuito nelle vicinanze, il comune si deve fare parte interessata affinché o proprio il parcheggio diventi gratuito e si fa carico il comune di queste spese o venga trovato un terreno su quale fare un pezzettino di parcheggio gratuito come ci sarebbe, come c'è in tutti gli ospedali d'Italia, cioè non è soltanto quel. Poi il sottopasso naturalmente che è un altro tema importante che va assolutamente non fatto per quel che mi riguarda, perché è una spesa veramente folle, quella del sottopasso che va comunque incidere sui cittadini italiani, perché l'ANAS... Un terapieno, un terapieno, è la cosa più veloce. Rimangono 30 secondi, dia un motivo ai pratesi perché votino il suo nome. Allora, devono votare me perché sono una persona che quando prometto una cosa cerco sempre di farla, sono una donna, credo che possa dare quel tocco di femminilità anche alla città, rivedendo anche il centro storico in piccole cose. Penso che la gente possa darmi fiducia, io in questi cinque anni ho fatto un'opposizione seria, è un'opposizione comunque che ha portato anche a quello che è stato poi il rinvio a giudizio del sindaco Biffoni per i CREAF, ci sono anche altri esposti, a chi mi accusa di aver fatto tanti esposti, non è vero, ma perché se vengono fatti è perché c'è un motivo. D'accordo, grazie mille a Marilena Garnier, noi ora ci fermiamo per un breve spazio pubblicitario, poi andremo avanti con questo Prato Diretta Sera, speciale elezioni. Prato è la nostra città, una storia collettiva di persone, di idee e di talenti. Prato è una comunità orgogliosa, decisa, in trasformazione continua. Prato è una forza, perché Prato non si ferma, cade, si rialza, si ripensa, trova sempre la sua strada. Prato ha chiesto a lungo rispetto, Prato si è presa per rispetto. Prato siamo noi, uniti. Prato non si discute e noi siamo con lei, sempre, con tutto l'amore che c'è. Umberto ha un suo autista. Diletta tutte le mattine a chi la pettina. A Carlo viene servito il suo vino preferito. Diletta, Umberto e Carlo non sono le regine e le re, tantomeno ricchi signori. Sono malati di Alzheimer, perdono la memoria e tutte le capacità cognitive. L'Alzheimer colpisce 800.000 persone in Italia e solo i familiari si prendono cura di loro. Tutti i giorni, tutto l'anno, perdendo la libertà. Non lasciateli soli. Sostenete l'AIMA. Non dimenticare chi dimentica. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alzheimer. Non ti costa nulla, ma per noi vale tanto. Sillab è in realtà sanitaria leader nella medicina di laboratorio e propone quotidianamente un nuovo approccio integrato, orientato all'innovazione diagnostica, alla prevenzione e al benessere. Sillab è presente sui territori con numerosi punti prelievo, laboratori di analisi moderni e innovativi, centri polidiagnostici per medicina specialistica, medicina del lavoro, formazione e servizi alle imprese, medicina dello sport, analisi alimentari e ambientali. Sillab in Toscana è tutto questo. Ti aspettiamo nei nostri 70 centri. Data medica Montecatini, dal 1975, accreditato e convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio, risonanza magnetica GE 1,5 tesca di ultima generazione per lo studio di tutti i distretti del corpo umano, mammografia digitale GE per lo studio della mammella, radiologia tradizionale Siemens telecomandato, TC tomografica computerizzata Toshiba Apilon 64 Slices per lo studio di tutto il corpo umano. Data medica Montecatini. Difendi la tua famiglia, i tuoi interessi, il tuo lavoro. Rinaldi è al tuo fianco. A testa alta in Europa, con la Toscana nel cuore. Domenica 26 maggio, vota Lega e scrivi Rinaldi. A testa alta in Europa, con la Toscana nel cuore. Ben ritrovati, proseguiamo questo Prato Diretta Sera speciale elezioni, proseguiamo con questa serie di interviste ai candidati sindaci. Accanto a me c'è Aldo Milone, buonasera. E candidato per la lista Prato Libera e Sicura, una lista creata da un po' di anni fa. E appunto, proprio per questo, lei ormai è un decano del Consiglio Comunale. Come mai questa scelta di candidarsi nuovamente? Non si è ancora stancato? Eh, direi quasi, siamo vicino. Ecco, forse è l'ultima legislatura, perché poi è bene mettersi da parte. Io ho voluto rinnovare questo impegno con la città e con i pratesi, nella speranza di poter dare quell'apporto e quel contributo per migliorare questa città, visto lo stato in cui versa, soprattutto sotto alcuni profili. Ecco, lei è nell'ambito di centrodestra, per alcune settimane, forse anche un mese e più, ha fatto parte della coalizione che poi doveva trovare un candidato unico. Alla fine però ha deciso di correre da solo. Come mai? Beh, la scelta è stata quasi obbligata. È vero che io sono stato all'opposizione con il centrodestra e quindi gravitavo e gravito in quell'ambito, però assistere a questa querelle tra Forza Italia e Lega, bisogna dirlo, io alla fine ho preferito sfilarmi e non essere coinvolto. Infatti sono stato il primo a venire via e ad affrontare questa battaglia elettorale da solo, perché era assolutamente intollerabile vedere ancora questi litigi continui, quasi quotidiani, tra i due partiti. Sicurezza, lotta all'illegalità, ormai sono un po' i suoi marchi di fabbrica, dai tempi in cui anche ha fatto assessore con la Giunta Scendi, ma poi anche la sua attività in consiglio come consigliere d'opposizione. Cosa c'è nel programma su queste tematiche? Beh, oltre a queste, che almeno datemi il copyright, spero di avere su questi temi, soprattutto sicurezza, l'illegalità economica e un aiuto anche alle famiglie bisognose. Per quanto riguarda la sicurezza, io cerco sempre di dare soluzione, perché io, devo dire la verità, mi scoccio buttare fuori degli spot, così, tanto per prendere in giro la gente. Come si può risolvere? Non dico come si può risolvere, ma come riuscire a tamponare questa falla. Ecco, io ho chiesto e chiederò come uno dei primi atti, se dovesse diventare sindaco della città di Prato, il rientro dei militari, militari che non devono essere impiegati come l'ultimo condigente in funzione antiterrorismo, cioè il presidio nei confronti di alcuni obiettivi, tipo stazione ferroviaria, non so, il Duomo, oppure il Senario. Obiettivi sensibili. Noi sappiamo benissimo che Prato non rientra tra le città a rischio, sotto questo punto di vista. Lo è più Firenze che Prato. Quindi io chiedo che vengano impiegati, secondo il famoso progetto ai tempi della giunta Cenne, il progetto Strade Sicure. Che significa? Cioè una pattuglia mista composta da militari o poliziotto carabinieri, che svolgono una funzione appiedata, quindi di vero controllo del territorio, perché serve anche a dare maggiore sicurezza e anche un aiuto morale alla gente che li vede pattugliare le strade. E poi, ricordiamoci una cosa, bisogna tener conto anche delle periferie che sono state completamente abbandonate sotto questo punto di vista. i recenti furti, zona soccorso, San Paolo, che sono avvenuti, è la dimostrazione classica. Quindi, come dicevo, per me la sicurezza va affrontata anche con questo sistema. Lei fu forse il primo a cambiare un po' il passo alla Polizia Municipale, sotto il suo assessorato, insomma, da vigili urbani sono diventati agenti polizia. C'è da dire continuato, insomma. Caro direttore, veramente la ringrazio pubblicamente, perché mi ha dato spunto almeno un riconoscimento. Con me io dissi da allora, voi non siete più vigili urbani, siete Polizia Municipale. Polizia Municipale vuol dire che dovete svolgere determinati ruoli come la Polizia di Stato. Anche perché loro prendono un'indenità di PS, non dimentichiamoli. Io non è che li voglio far fare un'attività investigativa tipo DIGOS o Squadra Mobile, ma dovevano svolgere quel ruolo che quantomeno si avvicinava molto a quello che fa la Polizia o i Carabinieri. E non vi dimenticate le famose operazioni notturne che io impostavo, quei controlli a 360 gradi che andavano ad affrontare problemi come la sicurezza stradale, problemi come la prostituzione e anche i controlli nei capannoni. Quindi affrontavo tutto ciò che rientrava nelle competenze della Polizia Municipale. E di questo ne sono fiero. Lei spesso dice nei suoi interventi che ora viene fatto questo, io l'avevo già detto prima. Cos'è questo? Ma cos'è? Una soddisfazione o più un rammarico? No, ma diciamo anche una soddisfazione. Vuol dire che riconoscere il lavoro che ho svolto nei cinque anni da assessore. Quindi, conseguenza, proseguire quel tipo di attività mi fa anche molto piacere. È chiaro che a volte lo dici con rammarico. Perché lo dico con rammarico? Perché se quando questi controlli ho attività sulla strada, come facevo, come li impostavo io invece, cioè venivo accusato sistematicamente dalla sinistra di essere un razzista, di fare il poliziotto, lo sceriffo, lo sceriffo, il famoso sceriffo, come venivo così etichettato, adesso sembra che rientra nella normalità, che è compito principale della Polizia Municipale. E' questo che mi ha dato sempre noia, ripeto. Non questa differenza di ruolo che veniva dato a me allora e adesso con la delega che deteneva il sindaco Biffoni. Che deteneva e detiene ancora tuttora il sindaco Biffoni. Se posso aggiungere una cosa, io sotto la sicurezza, con Biffoni, ho raggiunto dei livelli pazzeschi, lo abbiamo visto in questi ultimi periodi. Tra l'altro io ho sempre detto Prato che è considerato solo le 24 ore la capitale del riciclaggio di denaro sporco è una cosa che mi ha fatto venire i brividi. Cioè è un primato di cui assolutamente Prato se ne deve liberare. Ecco, anche perché di solito il riciclaggio vuol dire anche criminalità organizzata e tutto quello che si porta dietro. E' uno che si identifica una città con determinate note zone della nostra amatità. Melone, sono rimasti 40 secondi, faccio un appello ai pratesi, un motivo per cui la devono votare. Io, guardi, non dico mai votatemi perché sono così. No, i pratesi devono imparare a votare, di votare le persone piuttosto che le casacche. Cioè, oggi bisogna capire, io questo vorrei che si raggiungesse questo tipo di maturità. Io voto Tizio e Caio perché è bravo a risolvere determinati problemi. Non perché veste la casacca della Lega, di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Partito Democratico. No, devono scegliere le persone, soprattutto a livello comunale. Se si riesce a raggiungere questo, bene, mi votino. Altrimenti votino altrove. D'accordo. Grazie mille, Melone. Noi ci fermiamo per un altro breve spazio pubblicitario. Ci troviamo subito dopo con la terza intervista di questa serata di Prato Diretta Sera, speciale elezioni. I'm Mary Jane Oh, my Mary Jane Grazie a tutti 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 Grazie a tutti